ecco qua sono tornati i girasoli girasoli e ho fatto un po troppo troppa panna ho messo il concordola ho messo il duetto che c'è mascarpone con cordone insieme non so se conoscete si chiama duetto è un formaggio comunque si è creato mascarpone con cordone insieme cotto piselli un po di parmigiano giusto per tirare un attimo non sta tirando tutto liquido quindi tira domani questo adesso comunque io lo mando il cuore sta fumando faccio asciugare un po faccio raffreddare un attimo a sì ecco vedi e questo dolcetto no duetto dolcetto mascarpone con cordone insieme molto buono non riesco a farvi vedere comunque certo tutto intorno mascarpone ogni tanto c'è un po di gongorzola e poi ho messo un po anche di gongorzola dolce insieme alla panna e burro e quindi è venuto sto tirando adesso piano piano tra i suoi tempi certi tempi ecco qui l'impiattamento è un po qualcuno si è rotto quella comunque adesso qua è rimasto domani qua da parecci i crostini comunque si no ce ne sono ancora sei erano quattordici mi sa che non buttati di qua otto qualcosa così qualcosa del genere dovrebbe essere otto o nove comunque va bene ok va bene dai va bene adesso la forchetta farei una forchettina e poi li mangiavo uno la saggio xavia perfetti buonissimi no va bene all'inizio sembrava un po dolce invece no no giusto anche perché c'è un sacco di gongorzola che è salatissimo perfetto grazie a tutti